Buonasera, faccio notare un'altra perversione che mi è stata fatta notare da un mio collega che ringrazio per l'assist e riguarda più aspetti. Il medico che viene sospeso dall'ordine al netto della denuncia che ne seguirà verso l'ordine, cioè al netto quindi di tutte le iniziative legali concesse, non può esercitare. Quindi in un momento di emergenza sanitaria i medici che vengono sospesi non possono esercitare. E già qui tu dici c'è qualcosa che non va, qualcosa di pesante che non va, ma facciamo finta di nulla. Ma il medico che un mese dopo dalla sospensione si ammala e guarisce e quindi acquisisce l'immunità previa naturale, in che posizione sta? Perché a quel punto quel medico ha gli anticorpi. E se non li sviluppa con la malattia naturale, sappiamo che non li sviluppa, è molto verosimile che non li sviluppa nemmeno con il vaccino. Ma allora la razio, cioè la motivazione che c'è, qual è? Perché se la motivazione è proteggere i pazienti e i medici, dovremmo affermare che in tutto questo anno abbiamo esposto a rischio la vita dei medici e degli stessi pazienti. Quindi che il contagio, il pericolo di contagio era l'ospedale. Allora potevamo tenere aperto tutto il resto e chiudere gli ospedali, per dire. Tanto col fatto che non ne abbiamo curate le persone a casa, giusto. Potevamo non curarle anche in ospedale, il risultato era più o meno il medesimo. La questione del medico che durante la sospensione si ammala e sviluppa l'immunità quello è un medico che resta bollinato come dissidente e che va fucilato sul posto come si faceva in guerra, come ci ha ricordato Pregliasco o è un medico che poi dimostrando la presenza degli anticorpi e di essere un sopravvissuto può tornare al suo lavoro. Ma ancora, le persone che sono state vaccinate non hanno fatto il sierologico e quindi sono state vaccinate le persone che hanno avuto il Covid. Quindi a questo punto noi potremmo dire che anche il medico vaccinato che sviluppa l'immunità dovrebbe essere vaccinato. Ma questo cozza non solo contro il buonsenso ma cozza contro la medicina perché nessun libro mai di malattie infettive o di immunologia ha mai detto, anzi è assolutamente impensabile vaccinare qualcuno per una malattia che ha già avuto. Come si vede quindi la sospensione dei medici da parte dell'ordine parte da presupposti che sono assolutamente folli passa per vie intermedie ancora più folli e arriva a conclusioni che sono assolutamente incomprensibili, illogiche, immotivate e qui la scienza di nuovo, come stiamo già dicendo in tanti, non c'entra nulla. Cioè tutto quello che si sta facendo adesso lo si sta facendo contro quello che c'è scritto sui libri di medicina e tutti noi medici conosciamo e ci farei un ragionamento su questo perché allora se noi decidiamo che il medico che mentre è sospeso prende il covid e fa l'immunità per via naturale, che dovrebbe essere anche migliore di quella artificiale deve essere vaccinato diciamo una porcata ma se diciamo che quel medico siccome ha gli anticorpi non va vaccinato allora noi dovremmo spiegare perché abbiamo vaccinato le persone che il covid l'avevano già preso e di nuovo anche qui ci sarebbe un grande un grandissimo interrogativo a cui rispondere quindi basterebbe questa analisi che vi invito di ricondividere e mandare a tutti gli avvocati del globo perché come si vede la razio, la motivazione non è e non può essere quella che viene dichiarata perché sennò tutte queste contraddizioni queste illogicità non ci sarebbero e sono illogicità e sono passaggi passaggi incoerenti che dimostrano che stiamo vivendo in un Truman Show che io però non so se sarà possibile cioè non so se ne potremo mai uscire perché noi come facciamo a sostenere d'ora in avanti che si vaccina per una malattia per non farla prendere non perché tu l'hai già avuta perché se tu l'hai già avuta ti puoi reinfettare allora non ci puoi fare il vaccino cioè non so se è chiaro quando uno si vaccina per l'influenza ogni anno si cambia questo video secondo me verrà censurato tra 5 minuti quindi se non mentre lo sto facendo quindi salvatelo perché questo è un video di quelli secondo me troppo a rischio perché dico cose troppo normali il vaccino per l'influenza cambia ogni anno ma chi lo fa sa che può prendersela l'influenza lo sa perfettamente molti se la prendono e non è mai stato fatto nulla di tutto ciò per un virus influenzale questo è un virus a RNA che muta e oramai sono le varianti che stanno circolando per cui a un certo punto il rischio che le persone vaccinate diventino positive e non è un bel segno e non mi interessa cosa dice la capua non mi interessa o non mi interessa quello che dice Burioni che di nuovo oggi se ne è uscito dicendo io non mi spiego come mai AstraZeneca che si sta praticamente sputtanando in tutto il mondo si stia comportando così io non ci voglio mettere la faccia e quindi sto zitto sì però devi stare ogni volta che parli dici che stai zitto però non devi neanche fare interviste cioè se hai deciso di graziarci dopo un anno di lezioncine che però si sono dimostrate in realtà così poco predittive visto quello che è successo mola che perché è inutile che ogni giorno dici non parlerò più ogni giorno parli per dire che non parli perché poi così ogni giorno non parli quindi per favore condividete questo video dappertutto salvatelo mettetelo sui vari sulle varie piattaforme che io non conosco perché i quesiti sono questi e adesso anche io lo mando subito agli avvocati con cui collaboro quindi all'avvocato polacco all'avvocato morigia quindi al comic host che spero lo mandi a Linda Corrias poi lo mando con la mail a Marco Mori insomma lo mando un po' in giro a tutte le persone che a De Petro non scodiamocelo a Palermo insomma sono in connessione con quasi tutte queste persone che vi ho nominato giratelo anche voi e soprattutto ragionateci un po' e oltre ciò volevo ricordare come ho già detto che in Sardegna stanno costruendo ben due campi per minori positivi al covid qui è scritto espressamente e io mi sto chiedendo perché ma soprattutto ci stiamo preparando a un'emergenza sanitaria o una catastrofe stando a quello che sta succedendo a quello che si sta stando ai bandi pubblici ma questa catastrofe perché se no non vi comportereste così è un tentativo ultimo per far decidere gli indecisi paventando campi di contenimento quindi siamo sempre dentro al solito film o veramente sta succedendo qualcosa che noi non conosciamo ma voi conoscete e allora a questo punto però ci dovete spiegare perché lo state facendo e l'ultima cosa che voglio dire è che abbiamo violentato la medicina nei suoi principi per un anno ora io non credo che se tu violenti la medicina la medicina cambia come vorresti tu io credo che se violenti la medicina inizi a fare cose che non avresti dovuto fare in realtà la natura prevale su quella che è la volontà perversa dell'uomo quindi noi in realtà che cosa stiamo facendo e guardate qui il complottismo non c'entra nulla perché le varianti le abbiamo perché sappiamo che i vaccinati si positivizzano al netto di quelli che non muoiono e sappiamo che questi vaccini hanno già determinato con un nesso di causa riconosciuto dei decessi per quelle stesse complicanze che dava il virus a quanto pare Johnson & Johnson ha lo stesso problema del vettore di AstraZeneca e presenterà gli stessi problemi come è scritto sulla stampa quindi la mia domanda è se avessimo curato le persone come avremmo dovuto cioè curate a casa con i farmaci antivirali che avevano con i farmaci che avevano un'attività antivirale senza trattare le persone come se fossero radioattive e avessimo contati i morti in un modo corretto e quindi non avessimo creato questa psicosi collettiva e quindi non avessimo obbligato delle persone che manco sanno se il virus l'hanno preso a vaccinarsi e a vaccinarsi per poi arrivare a obbligare i medici pena la sospensione dell'attività professionale cioè se fossimo state persone coerenti e con un briciolo di cervello non saremmo in questa apocalisse non saremmo ma non saremmo non saremmo ma non saremmo di cervello